Ho fame! Ti devo graffiare per avere del cibo qui! Ma ciao piccolino, ma quanto sei bello! Ma perché devi sempre rompere le palle? Senti, io mi sto lavando, tu dammi del cibo! Vuoi giocare? Non vuoi lanciare quei fili dall'alto che poi non riesco a prenderli e impazzisco, per favore! E che cosa vuoi? Adesso ti passo in mezzo alle gambe, effettuando delle fusa, facendoti credere che io ti voglia bene! Ti metto qui da mangiare, eh! Ok, e arrivederci, coglione! Se tutti mi amassero come mi ami tu, guarda!